le sue radici sono tra i fitti boschi i verdi pascoli i piccoli borghi della valvaraita ai piedi del monviso ed è proprio qui che lo chef iuri chiotti decide di tornare senza alcun rimpianto nel lasciare a cuneo la sua prima stella michelin l'obiettivo è chiaro cambiare le cose attraverso il cibo e iuri lo fa adottando un'idea di sostenibilità e di totale autosufficienza l'orto le capre le galline e non solo reis cibo libero di montagna il suo ristorante si propone proprio questo fornire a chi si siede ad uno dei suoi tavoli un cibo libero da logiche di mercato dagli stereotipi legati all'alta cucina e soprattutto prodotto a pochi metri dal luogo in cui viene consumato quello che mi piace fare nel mio mestiere è proprio far tornare un po la gente a capire le cose fondamentali del cibo cioè quanto influisce sulle nostre vite quotidianamente la produzione